Ciao dolcezze, oggi un video vlog, un video molto particolare per aggiornarvi su tantissime cose Allora, innanzitutto vi parlo della situazione terremoto Allora, io abito in provincia di Ferrara, però verso il mare e fortunatamente, dico fortunatamente, da me non ci sono stati danni Allora, praticamente la scossa che abbiamo sentito sabato notte, quindi vabbè domenica mattina alle 4 e 5, l'abbiamo sentita potentissima anche noi Praticamente stavamo dormendo e il letto faceva questo movimento quindi una paura incredibile, uno spavento pazzesco perché stavamo dormendo e ci siamo svegliati di soprassalto e non è stata una bella esperienza per niente, soprattutto un bruttissimo risveglio però, dico fortunatamente, qui da me in provincia di Ferrara e a Ferrara ho sentito che non ci sono stati danni e ho sentito tante ragazze che abitano tra Ferrara e Modena vicino Mantova e vicino Bologna e ho sentito appunto che hanno avuto dei danni nei loro paesi ci sono stati dei danni io veramente sono vicina a queste ragazze e alle loro famiglie e sono vicina veramente tantissimo con il cuore a tutte le persone che hanno perso i propri cari e hanno perso la loro casa insomma, sono vicinissima a queste persone che hanno perso tutto io, come vi ho già detto, sto benissimo, mia sta benone per fortuna quando c'è stata la scossa di terremoto mia dormiva e noi invece ci siamo svegliati proprio di soprassalto e quindi per fortuna niente di grave detto questo al Cezze vi informo che l'incontro che ci sarà il 26 maggio appunto a Ferrara all'Ipercop ci sarà perché come vi ho detto prima Ferrara non ha avuto danni ho sentito tante ragazze che abitano a Ferrara hanno detto che non hanno avuto danni l'Ipercop è aperta e agibile a parte il supermercato che ha avuto qualche danno ma per il resto è agibile tutto tranquillo, tutto normale e quindi il 26 ci sarà l'incontro vi lascio comunque qui il link del video dell'incontro così almeno riuscite a capire e lì troverete nell'info box tutte le informazioni quindi lo farò sabato il 26 maggio all'Ipercop Castello di Ferrara davanti al negozio Bijou Brigitte dalle 14 e 30 io sarò lì e appunto non vedo l'ora di vedervi di abbracciarvi e soprattutto di conoscervi detto questo adesso c'è una personcina che vi vuole salutare ma chi sarà? eccola qui la signorina che vi voleva salutare ciao dolcezze mia amore amore della mamma ciao ciao dolcezze è cresciuta tantissimo pensate che è 5,2 kg per 59 cm c'è una bestia veramente pesantissimo vero amore? vero amore mio? è incantata quando vede la luce lei si incanta la fissa così veramente oddio sei incantata la metto nella sua carozina io vi saluto dolcezze vi ricordo dell'incontro mando un bacio a tutte le persone comunque stanno vivendo questi momenti difficili vi mandiamo un bacio e preghiamo per voi noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao ciao